Sono fortunato con un partner meraviglioso. Sono grato per la mia buona sorte. La mia carriera è ancora una grande gioia per me, nonostante i media. Sono sano e felice e sto vivendo la mia vita. E per qualche strana ragione... Sono qui di nuovo, sai, a causa di comportamenti molto estremi da parte dei media stampa che hanno richiesto una mia risposta immediata. Quindi, indipendentemente da tutte le benedizioni che ho nella vita, credo veramente che, sai, non dovrei dover affrontare ciò con cui sto affrontando in questo momento, che si basa tutto su bugie complete. Sai, voglio dire, odio non riuscire a superarlo, ma c'è solo tanto che puoi sopportare. E quando i media iniziano a mettere insulti sulla mia relazione e indicare che il mio partner, che è felice del modo in cui vivo la mia vita,